Resteranno in casa in quarantena fino a domenica, ma stanno tutti bene, i 15 giovani di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, protagonisti di una disavventura a lieto fine nel campo scout a Selva di Ferriere. La scoperta di un caso di positività al Covid di un capo dei giovani esploratori ha costretto tutti a restare per qualche giorno in una bolla per poi essere riaccompagnati a casa a bordo di un pullman messo loro a disposizione. L'occasione era la verifica finale delle attività di un anno, una competizione tra squadriglie che si sarebbe dovuta concludere con la premiazione di esploratori e guide. Tutti erano partiti dalla città con tampone negativo, ma qualche giorno dopo il loro arrivo uno dei capi, nonostante fosse già vaccinato, ha iniziato ad avvertire i classici sintomi del coronavirus. Immediato il tampone è fatto a Ferriere con esito positivo. Su indicazione dell'azienda sanitaria, il ragazzo è ritornato a casa e si è messo in isolamento. Per gli altri 15 giovani, l'ASL ha disposto che fosse creato una bolla fino alla ripartenza per casa. A rientro in città, i piccoli sono stati sottoposti a tampone. Uno solo è risultato debolmente positivo e asintomatico. Tutti dovranno restare in casa in quarantena fino a domenica.